Dal 1990 ad oggi il SEU ha rappresentato una vera opportunità per i cittadini umbri e soprattutto per i giovani. Ne è testimonianza i corsi che sono stati organizzati e soprattutto il fatto che dopo i corsi molti giovani hanno trovato occupazione in Italia e in Europa. Le attività che si sono concluse nel 2013 testimoniano come l'interesse sia ancora vivo da parte dei cittadini umbri verso le prospettive che offre l'Europa e in attesa dell'Agenda 2020, che quindi porterà ulteriori risorse anche alla nostra regione, riteniamo che il SEU possa rappresentare un vero supporto alla cittadinanza umbra ma soprattutto ai giovani. Un'occasione che non possiamo perdere, la Presidente Marini parla sempre che abbiamo necessità di più Europa così come le indicazioni nazionali si parla sempre di più Europa e il SEU sicuramente saprà dare le disposte aspettate. È un'opportunità, torno a dirlo, e vogliamo che il SEU possa proseguire a dare queste indicazioni a molti giovani che ancora oggi si rivolgono a questa associazione, voluta nel 1990 con grande e lungimiranza della regione Umbria.